Non credete alle ghiacce che non c'è stato nessun contatto, che si mi chiamavano per entrare tra... Cioè, comunque ci va a vicino a me, ma stavo bene a me, ma magari qualcuno mi ha fatto vedere un altro. Il contatto c'è stato dai giornali, dai giornali, che io stavo vicino a Cattol, ma non era vero. Una cosa è un giornale, una cosa è quando chiamano giocatore di Juvenino, non è?